Bentornati ancora alle fonti Closing Bell, siamo in compagnia di Carlo Altomonte, professore Università Bucconi, buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi. Abbiamo visto naturalmente un ottimismo soprattutto in Europa dopo il Consiglio europeo, ieri in presenza anche di Joe Biden, il presidente statunitense, si vede già qualche luce nel fondo del tunnel o non ancora, naturalmente mi riferisco alla campagna vaccinale? Ovviamente sembra di no perché i vaccini devono ancora in qualche modo essere distribuiti, noi sappiamo già da diverse settimane che nel primo trimestre l'Europa avrebbe avuto non più di 100 milioni di dosi di vaccino, questi numeri sono destinati a triplicare se non di più nel secondo trimestre, in particolare per l'Italia passeremo da circa 15 milioni di dosi ricevute fino ad oggi a oltre 45. Quindi fondamentalmente dobbiamo solo avere pazienza e anche se la luce adesso è in fondo al tunnel magari ancora non la vediamo, però io sono abbastanza convinto che tra un mese o un mese e mezzo il problema della campagna vaccinale ce lo saremo abbastanza messi dietro le spalle, nel senso che inizieremo a vedere quote di popolazione vaccinata soprattutto, e questo è il punto chiave, se partiamo dalla la parte di popolazione più fragile, che a quel punto riducano in maniera significativa la mortalità e allora riusciamo a riaprire. Se invece ogni regione si inventa le loro categorie da vaccinare e non vacciniamo la parte di popolazione più fragile, evidentemente non riusciamo a riaprire. Questo deve essere molto chiaro. Assolutamente sì, invece si è visto che comunque non ci sarà zona gialla fino a fine aprile, sicuramente una notizia non molto positiva soprattutto per il settore dei servizi. A livello di dati macro ci sarà secondo lei una ripresa piuttosto significativa nella seconda metà dell'anno o meno? Perché comunque tanti ristori, cassa integrazione per tantissime persone nel settore dei servizi, sono in ritardo e questo è importante da dire a prescindere di chi sia il governo? No, no, assolutamente sì. Di nuovo, tutto dipende dalla campagna vaccinale. Se la campagna vaccinale accelera sia come disponibilità di vaccini che poi come capacità di erogarli alle persone più fragili della popolazione, è realistico immaginare che noi tra maggio e giugno riapriamo parti significative del paese, perché a quel punto la pandemia non sarà una malattia che genera mortalità eccessiva, avendo noi vaccinato quelli che hanno davvero la mortalità, che sappiamo statisticamente essere quelli di più di 65 anni di età, ma avremo fondamentalmente una mortalità una volta che abbiamo vaccinato questa parte di popolazione che si avvicina a quella di un'influenza. Ergo potremmo riaprire il paese e riaprendo il paese prima dell'estate dovremmo confermare la previsione dell'Ocse che ci pone sopra la media europea di crescita intorno a 3,5% di crescita per il 2021 e più o meno la stessa cifra sul 2022. Invece, parlando della campagna vaccinale, in particolar modo europea, naturalmente la Commissione europea ha deciso di intraprendere un approccio un po' più diverso rispetto alle esportazioni, che è una decisione molto contestata da diversi analisti e diverse persone naturalmente. Innanzitutto quanto democratica è questa scelta e soprattutto che cosa comporta per le relazioni tra la Gran Bretagna e in questo caso l'Unione europea, che sono già non troppo facili? A me questa polemica fa francamente un po' specie, perché l'Unione europea è l'unico grande paese al mondo che ha dato 77 milioni di vaccini ai paesi in via di sviluppo. Gli Stati Uniti non hanno dato neanche un vaccino e il Regno Unito non ha dato neanche un vaccino, quindi i Regni Uniti e gli Stati Uniti si sono ben guardati da dare al di fuori dei loro confini qualunque tipo di vaccino sia arrivato sul loro territorio, sia stato prodotto. L'Unione europea ha continuato a fornire vaccini al Regno Unito, visto che le catene di produzione sono in Europa e ha fornito 77 milioni di dosi al resto del mondo, rinunciando essa stessa ai propri vaccini. Quindi francamente alle anime belle dico, guardate i numeri prima di parlare. Questo è sicuramente un punto interessante, anche la sua posizione è molto chiara ed è un conflitto secondo lei tra l'Europa e in questo caso AstraZeneca o per forza bisogna anche nominare ed includere la Gran Bretagna? No, io ritengo che giustamente è molto probabile che il governo inglese abbia pagato i vaccini più di quanto li abbia pagati l'Unione europea. In più AstraZeneca è un'azienda che ha beneficiato di un finanziamento importante del governo inglese, visto che si trova a Oxford e poi sappiamo a una parte ce l'ha a Pomezia vicino alla Tiro. Quindi ha perfettamente senso da un punto di vista commerciale che AstraZeneca in qualche modo onori il suo contratto con il Regno Unito, ha molto meno senso ovviamente che AstraZeneca non onori, violi, il suo contatto con l'Unione europea. Ma questo non vuol dire che noi per far rispettare ad AstraZeneca il suo contratto dobbiamo impedirle di rispettare quello con altri paesi alleati come il Regno Unito. Quindi la posizione europea deve essere molto chiara, tutto quello che in qualche modo è sull'Unione europea ed è destinato all'Unione europea deve restare sul territorio europeo, non può esserci distorsione di questi flussi. Quello che invece è dell'Unione europea destinato Regno Unito va al Regno Unito e poi se c'è un problema di mancanza di difetto di AstraZeneca nei confronti del calendario di consegna dei vaccini con l'Unione europea, evidentemente ci saranno le sedi legali dove questo contratto verrà in qualche modo discusso e AstraZeneca pagherà i danni che deve pagare all'Unione europea, ma non mi sembra che a partire da questo debba creare ulteriori tensioni tra noi e il Regno Unito. C'è un'azienda commerciale di mezzo, ci sono un enorme diritto internazionale e quindi faremo quello che si deve fare per tutelare i nostri interessi, ma senza che questo diventi un incidente internazionale. Senta, le vorrei chiedere un'altra domanda che riguarda le pressioni inflazionistiche, un tema naturalmente molto discusso, soprattutto negli Stati Uniti ma anche in Europa. Lei si attende pressioni inflazionistiche al rialzo in caso la situazione al canale di Suez dovesse perdurare magari più di una settimana? Il tema inflazione è un tema ovviamente molto sentito dai mercati perché su un rialzo dell'inflazione poi si muovono i tassi, lo dicevate prima nelle news e ovviamente ogni movimento di tasso, soprattutto nei settori tecnologici in qualche modo fa aumentare la sensibilità dei price earnings, quindi dei valori azionari rispetto alle quotazioni attuali portando a scenari di possibile correzione. Dobbiamo secondo me distinguere almeno tre possibili scenari. Uno è l'inflazione negli Stati Uniti, eventualmente indotta e quasi sicuramente indotta dal piano di espansione fiscale dell'amministrazione Biden. Quella inflazione probabilmente ci accompagnerà per un certo periodo di tempo da valutare se il periodo di tempo di cui l'inflazione sarà compatibile con la flessibilità che la Fed stessa ha dato dell'obiettivo di inflazione di medio termine e quindi con il mantenimento di tassi di interesse reali fondamentalmente non troppo diversi da quelli attuali. Se così fosse avremmo uno scenario benigno da un punto di vista del mercato, altrimenti ci sarebbe una correzione anche di un certo tipo. In Europa probabilmente vedremo un'inflazione a rialzo vicino all'obiettivo del 2%, ma è un'inflazione che a mio avviso sarà di più breve durata, perché sarà un'inflazione sostanzialmente legata a un classico reflection trade, come quello americano, ma molto più spalmato nel tempo, perché evidentemente lo stimolo europeo è più spalmato nel tempo. Nel 2023 noi dovremo crescere più degli Stati Uniti, proprio perché noi continueremo con lo stimolo fiscale del recovery fino al 2026, mentre gli Stati Uniti fanno front loading e mettono tutto subito sul piatto. Quindi probabilmente la fiammata eventuale di inflazione europea è un'inflazione che la Banca Centrale sarà perfettamente in grado di gestire nell'ambito dell'attuale scenario di politica monetaria. E poi c'è il terzo punto, che è l'inflazione di brevissimo periodo, che potrebbe essere indotta dagli episodi, del canale di Suez, però ecco questa secondo me è un'inflazione che potrebbe accompagnarci per un mesetto e dopodiché potrebbe sicuramente portare a qualche movimento nei portafogli, soprattutto se la situazione dovesse continuare a restare bloccato il canale appunto. Ma secondo me questo è un fenomeno da cui rilevanza macroeconomica complessiva dovrebbe essere sicuramente transitoria. Ecco infatti stavamo facendo vedere invece il grafico dell'inflazione di oggi, abbiamo visto alcuni dati che sono tra l'altro incoraggianti. Invece torniamo un attimo sul mercato obbligazionario, il decennale americano a quota 1,64, il trentennale a 2,35. Allora giusto per riassumere, non bisogna per forza far riferimento all'inflazione o pressioni inflazionistiche a rialzo quando i rendimenti sono in rialzo, sempre i rendimenti dei treasuries, giusto o meno? Il punto da guardare in realtà è il tasso di interesse reale, dovete prendere il tasso nominale a 10 anni e togli il tasso di inflazione. Se vi viene un numero non molto diverso da zero o addirittura negativo potete stare tranquilli, se invece quel numero inizia a diventare positivo, quindi i tassi superano l'1,75 e l'inflazione non sale in maniera significativa, quindi i tassi reali fondamentalmente iniziano ad arrivare dal territorio negativo in cui sono stati per diverso tempo, si avvicinano a zero o addirittura vanno in territorio positivo, questo passaggio di tasso reale potrebbe portare a una correzione azionaria importante, soprattutto nel settore tecnologico. Quindi quello che bisogna guardare è il differenziale tra tasso nominale e inflazione fondamentalmente. Ottimo, grazie mille. A Carlo Altomont, Università Bucconi, grazie per essere stato con noi e buon weekend. Grazie a voi, arrivederci.